La novità più importante è sicuramente quella che vede l'opportunità di riuscire ad anticipare i lavori per l'ultimo miglio. Credo che è un'opera aspettata da tantissimi anni, un'opera infrastrutturalmente molto importante per il capoluogo, ma non solo per il capoluogo, per la funzionalità del porto, per l'intermodalità, per la competitività di tutto il sistema regione. E credo che l'eventualità che ci è stata oggi illustrata potrebbe portare qualche mese di anticipo che noi aspettiamo. Una visione strategica, quella che abbiamo costruito insieme alla Giunta Acquaroli, da oltre un anno dal nostro insediamento, di cui si cominciano a vedere i frutti. Per questo ringraziamo ANAS, l'amministratore delegato di ANAS, l'ingegnere Isi, che oggi ci ha fatto l'onore di accettare e accogliere il nostro invito. Al quale abbiamo presentato la visione infrastrutturale complessiva della nostra regione, che dicevamo abbiamo costruito non solo per declinare unitariamente una regione che si appella al plurale, le Marche, ma perché le Marche sono una vera e propria cinghia di trasmissione della cosiddetta questione dell'Italia centrale, dimenticata da oltre un ventennio. L'Italia centrale è la più grande rete infrastrutturale transeuropea, i corridoi nord-sud, dove noi vogliamo inserirci non solo nella linea baltico-adriatica e scandinava-mediterranea, ma anche in un corridoio che dai Balcani arrivi alla penisola iberica, attraversando la nostra regione che ha un unicum, l'unicum di tre infrastrutture in un unico territorio a distanza di un raggio di circa 15 chilometri, cioè il porto, l'aeroporto e l'interporto, che sono le nostre finestre sul mondo, ma sono anche il polmone che dà ossigeno all'economia marchigiana. L'opera molto importante, l'accessibilità dei porti è una delle cose fondamentali, il cosiddetto ultimo miglio. Devo riconoscere che qui il percorso iniziale del 2017, che sembra tanto tempo fa, comunque arriva oggi a un punto di arrivo e partenza molto importante. Avere un progetto in conferenza di servizi, voi sapete che non è semplice perché le attività da fare, in un territorio urbanizzato, in un territorio comunque già pieno di interferenze sia infrastrutturali che urbane, è un'attività veramente complessa. Le Marche Anas sta facendo un grosso sforzo che ha portato negli ultimi anni ad una crescita importante, sia per quanto riguarda la manutenzione che per quanto riguarda le nuove opere. Credo che questo sia un segnale molto significativo. Un primo passaggio lo farai sulla manutenzione, la manutenzione vuol dire sicurezza, vuol dire intervenire sulle infrastrutture esistenti e questo sicuramente può rappresentare un disagio per i nostri utenti, ma è un intervento importante ai fini della sicurezza. Quindi in qualche modo abbiamo riaperto una serie di cantieri che nel passato era più difficile portare in fondo. In questo contesto vi sono poi le opere nuove che stiamo realizzando, una su tutte, la più importante, mi sento di dire la variante della Statale 16 che è un segnale di attenzione al territorio, mi sento di ricordare gli interventi del terremoto, del sisma, gli interventi in corso sulla salaria, quindi tutti interventi in qualche modo funzionali a migliorare l'accessibilità della regione.